Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video oggi siamo qua con un nuovo video sul mio canale dove andremo a vedere le due volte in cui Papa Francesco ha perso la calma sono tutte e due le volte molto molto simili infatti una è successa ieri praticamente con una credente asiatica che ha strattonato il braccio di Papa Francesco e Papa Francesco per praticamente fermare la presa della credente gli ha dato due schiaffetti sulla mano poi invece la seconda volta in Messico dove un ragazzo ha proprio strattonato abbastanza violentemente il Papa e il Papa non ha fatto nulla però gli ha fatto capire di aver sbagliato urlandoli contro e nulla io adesso vi lascio alle due clip e vi rimando ai miei prossimi video che uscirà molto ma molto presto ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti! di questa maniera su juventud lo despide con una gran alegría santo padre porque su rostro es el del verdadero di questa maniera Il cuore del mio amore, per essere il nostro pastore Francisco è, Francisco è, il mio senso del Signore Per la esperanza non salire al corso Il cuore del mio amore Il cuore del mio amore